Come usare la casa dell'acqua? Funzionamento, la casa dell'acqua eroga acqua potabile, microfiltrata, depurata, refrigerata o refrigerata gassata. Erogatore 1, acqua microfiltrata o refrigerata. Erogatore 2, acqua microfiltrata o refrigerata gassata. A me piace gassare. Refrigerata e gassata. Forse Mario ci vuole fare qualcosa di pronto. Non esce né refrigerata né gassata. Refrigerata e naturale. Oddio. Esce tipo acqua calda. Di refrigerata non c'è assolutamente niente. Anzi c'è il processo inverso. È acqua calda. E non mi azzardo ad assaggiarla perché francamente ci tengo. Non mi azzardo ad assaggiarla perché non mi azzardo ad assaggiarla. 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 Grazie.